Non si lascia attendere la risposta del sindaco di Perdifumo Vincenzo Paolillo al comunicato stampa dei consiglieri di opposizione in cui hanno dichiarato di non partecipare al consiglio comunale svoltosi ieri 23 aprile. C'erano tutte le condizioni per permettere lo svolgimento del consiglio comunale, ha detto il sindaco di Perdifumo. Ieri mattina la minoranza aveva polemizzato sulla scelta di convocare un consiglio comunale nonostante l'emergenza coronavirus ritenendo che non fossero rispettate le regole previste. Invece lo spazio c'era, ogni componente l'assise aveva a disposizione 2,5 metri a persona e in aula c'erano 12 persone. Il primo cittadino ha anche sottolineato che per diversi giorni i locali sono stati sanificati e a tutti coloro che hanno avuto accesso è stata misurata la temperatura con il termoscanner. Grazie.